Dottor Mattellozzo, parliamo alle Terme di Chianciano di medicina termale, oggi un master importante dell'Università di Pisa. Assolutamente sì, questo master dell'Università di Pisa in idrologia medica che prevede diverse tappe anche realizzate all'interno del nostro gruppo, il gruppo di Terme Italia, vede nella sua puntata di Chianciano un particolare aspetto sulla reumatologia che è una delle malattie curate con i trattamenti termali e quindi questo master dà assolutamente ricordo di quella che è la valenza scientifica delle cure termali che piano piano si sta dimenticando, non dobbiamo assolutamente dimenticare che sono millenni che le cure termali sono veramente considerate delle cure e hanno anche delle valenze scientifiche. Per cui questo è veramente un'occasione importante per le Terme di Chianciano di ribadire una volta di più quello che è la valenza scientifica. Scientifica della cura proprio, esatto. Tra l'altro Chianciano con la sua fonte si lene dal punto di vista delle malattie reumatologiche, che insomma non racconto nulla di nuovo, è una conferma della validità delle sue proprietà? Assolutamente sì, proprio come dice lei la fonte si lene è quella che ci permette di prestare i trattamenti per i fanghi artro-reumatici e quindi è proprio quella specifica di questa tipologia di trattamenti. Non dimentichiamo che invece Chianciano è famosa per l'acqua santa e quindi per i trattamenti gastrointestinali e per la cura del fegato. Siamo veramente ricchi di acque termali con molti utilizzi. E poi nell'ambito del gruppo abbiamo anche la dermatologia perché non è da meno Saturnia. Per quanto riguarda invece la novità di queste ore c'è la proroga del bonus termi, la possibilità non di utilizzare un nuovo bonus ma di utilizzare quelli che sono stati erogati entro i termini di novembre. È così? Sì, è così. Il governo ha prorogato quello che è l'utilizzo fino al 30 giugno. In effetti le preoccupazioni legate al covid avevano rallentato la clientela. Abbiamo ancora un 30% di clienti che hanno ottenuto il bonus che non erano riusciti a venire e quindi contiamo di contattarli nel proseguo. Proprio perché grazie al bonus potranno utilizzare sempre di cui quelli che sono i trattamenti termali specifici ma anche associare quelli che sono i trattamenti di benessere. Proprio perché il binomio termale e benessere è sicuramente una possibilità di scelta consapevole dei clienti che possono trovare nelle terme non solo un ambiente curativo ma anche un ambiente in cui rilassarsi, in cui trovare un beneficio che giova a quello che è lo stile di vita. Possiamo diciamo in questo confermare che nel futuro di Terme di Chianciano c'è proprio la volontà di portare avanti sia il settore termale che il settore benessere? Certamente. Le Terme di Chianciano hanno iniziato probabilmente prima di altre a sviluppare il settore benessere senza perdere, anzi approfondendo anche quelle che erano le caratterizzazioni sulle prestazioni termali sanitarie. Quindi assolutamente Terme di Chianciano diversifica e continuerà nella diversificazione sia termale sanitario che benessere. Che a volte sono anche complementari. Assolutamente sì.